Lo sapevi che gli oceani come spugne assorbono il 30 per cento dell'anidride carbonica prodotta dell'uomo. La rimuovono così dall'atmosfera ma in compenso questo pasto velenoso altera la loro composizione chimica rendendoli più acidi. L'anidride carbonica è un gas ed è indispensabile per la vita ma a partire dalla rivoluzione industriale la sua quantità nell'aria è aumentata vertiginosamente e l'ecosistema marino ha subito i fenomeni messi nato dall'azione dell'uomo. Grazie per la visione! Grazie per la visione!